Farnesina, luogo d'incontro tra diplomazia e religione. L'occasione è data dalla conferenza organizzata il 17 marzo da Ministero degli Esteri e ISPI per riflettere sul ruolo delle religioni negli scenari internazionali e definire una più efficace strategia per raggiungere gli obiettivi di stabilizzazione e pace con una particolare attenzione alla crisi del Mediterraneo. L'evento rientra in un più ampio progetto dedicato a politica estera e religioni e al caso particolare dell'Italia, che il Ministero degli Esteri in collaborazione con gli ISPI e altri centri di ricerca sta conducendo da alcuni anni. Avviare un confronto sulle opzioni di policy e quindi valutare come le religioni e gli altri attori di politica estera possano meglio interagire per capire le dinamiche nazionali e internazionali e collaborare per il perseguimento di obiettivi comuni. Nei tempi più moderni, per quanto riguarda gli europei, il momento di svolta in cui ci si è resi conto dell'importanza dell'elemento religione nel dar vita a delle politiche concrete si è avuto durante le guerre nei Balcani. Vediamo in queste crisi globali la strumentalizzazione sia della politica che della religione per delle finalità che sono invece perverse, sono di conflitto, sono di disgregazione, della coesione tra i popoli e le culture. Io penso che il problema vero che le religioni pongono non sia tanto quello di dialogare fra di loro ma quello di dialogare con la modernità e dialogare con le proprie componenti perché molto spesso si ha la sensazione che siano le fratture interne agli universi religiosi quelle che producono i clash più devastanti e sanguinosi. Nel nostro intervento abbiamo voluto un po' enfatizzare il ruolo che l'Italia può e continuare direi ad avere perché da un punto di vista storico ha una sua valenza tutto il patrimonio delle relazioni interculturali e interreligiose che ha già stabilito. A livello geografico si trova in una situazione direi euro-mediterranea, oriente-occidente, Europa-Asia che è particolarmente favorevole, ha un'identità occidentale ma ha forse uno sviluppo di relazioni di dialogo e di condivisione che è particolarmente rilevante. La creazione di un corridoio umanitario che come proposta di collaborazione tra la Farnesina ma anche degli attori religiosi, in particolar modo alcune chiese protestanti e la comunità di Sant'Egidio che ha creato la possibilità di avere rifugiati che vengono evitando il tragico viaggio della morte del Mediterraneo in maniera legale e che sono integrati in Europa e in Italia in questo caso attraverso anche l'aiuto di comunità che sono radicate sul territorio. È una forma di collaborazione importante.